Senti, se tu ci stai, anche perché il giacchetto non è bombato, ma insomma... Io mi tolgo la giacca! Ti tolgo anche la giacca, perfetto. Allora ti facciamo l'applauso e così ti salutiamo, è stato un Boranga Show straordinario, sono contento e spero di invitarti ancora. Ti applaudiamo, togliamo il microfono, ti togliamo la giacca, spettacolo dello spettacolo, Boranga si butta a terra. Non è un campo di gaccia, eh? Marco chiama Sky Sport 24, facciamo un secondo servizio. Sì, lì c'è la palla, non hai microfono, vai se no non ti sentono. Lui c'è la palla, è il mio avversario, io devo andare a cercare la palla lui, e quindi da qui devo fare un passo e può tuffarmi. Certo, certo, fai il passo e si butta a terra. Facciamo un altro applauso, che si è fatto malissimo, non lo dice. No, certo, ne avrà fatti milioni di questi tuffi. Tuffarmi non mi faccio mai male, magari a prendere qualche calcio in bocca fa molto male, ma nel tuffo tu ormai sei talmente abituata a tuffarti che lo fai in una maniera tranquilla e serena senza paura.